Quello che vediamo è il progetto mostrato in assoluta anteprima a Noi TV dal sindaco di Vagli Mario Puglia e che riguarda la realizzazione di un nuovo parco avventura nei pressi del già ben noto ponte a Funi Sospese. L'opera, del costo totale di 700 mila euro, è finanziata da Comunità Europea e Comune di Vagli. Il progetto raccoglie una serie di attrazioni turistiche che formano un percorso avventura completo che comprende una passerella di tavole sospese nel vuoto, un tratto di via ferrata, un passaggio in sicurezza e in equilibrio, un ponte tibetano e una zip line. Tutto ciò rientra nella forma di attrazione turistica legata all'avventura che da due anni contraddistingue Vagli. È un parco avventura, viene costruito su cavi all'altezza di 100 metri che passano sopra il lago di Vagli, che passano vicini al ponte a Funi Sospese. Sarà un'opera temeraria turistica che riporterà turismo in tutta la provincia di Lucca. Vagli vi stupisce e stupisce anche me per le attività frenetiche, sia sul lapidio che sia sul turistico. A breve partiranno i lavori nei pressi del Parco dell'Onore e del Disonore. Tutto il parco avventura si sviluppa infatti nei pressi del ponte a Funi Sospese. I lavori saranno terminati in tempo utile per la stagione turistica estiva 2019. La stagione turistica è stata finita in tempo utile per la stagione turistica 2019.